Un caro saluto da Maria Giuliacci, il tempo è previsto per venerdì 25 giugno. L'anticicolone nord africano allenta un po' la presa sulla penisola, soprattutto al centro nord. Vedremo ancora dei solati temporali pomerigliani da calore sulle Alpi, sul basso Piemonte, sull'entroterra Ligure, rilievi abruzzese e molisane. Ovviamente le temperature saranno quelle che più attireranno la nostra attenzione perché avremo ancora massime intorno a 30-32 gradi su Emilia interna del centro, 33-35 sull'interno del sud e con punte di 40 gradi sull'interno della Puglia e sulla Lucania.